Acquistare biglietti, consultare orari, ricevere notifiche e avere informazioni in tempo reale. Si chiama Italo Treno ed è la nuova applicazione dedicata ai clienti di NTV. È già disponibile nell'App Store di iTunes e sarà presto scaricabile anche da Google Play per i dispositivi Android. Italo Treno si aggiunge agli altri canali di vendita di NTV. Il sito internet italotreno.it, il contact center pronto Italo, le agenzie di viaggio convenzionate, le biglietterie di casa Italo nelle stazioni servite.